Dieci anni fa cercavamo di capire come poter entrare nel mondo dello sport perché è un mondo che porta grandi valori, valori che possono essere molto simili ai valori di Lavazza. La tradizione, la forza, la dedizione, la cultura. Il tennis ci è piaciuto. Come sempre facciamo abbiamo deciso di prenderla morbida, di cominciare con qualcosa di semplice perché abbiamo piaciuto con Wimbledon che era il più difficile e il più ambito in assoluto. Ed è stata un'esperienza incredibile. Aver portato la nostra cultura, il nostro savoir-faire, il nostro modo di fare anche impresa, il modo di concepire che non è quello semplicemente dello sponsor, ma è del partner che viene, impara, ma che ti porta anche qualcosa. Qualcosa che magari va oltre quella che è l'ospitalità italiana, che è correlata con il nostro business, ma non sempre magari viene valorizzata. Noi abbiamo trovato il modo di valorizzare anche questo. Dieci anni di impegno nel tennis, 38 tornei, 8 milioni di caffè, per questo mi piacciono moltissimo questi numeri qua, 8 milioni di caffè. Vuol dire che ci siamo impegnati, vuol dire che siamo riusciti a essere credibili, vuol dire che siamo persone nelle quali ci si può fidare. È servito per aiutare a portare le ATP a Torino, è servito perché portavamo in bagaglio una dote di 10 anni di esperienza con l'ATP in generale. Speriamo di poter continuare a portare un valore aggiunto all'accelerio di Torino e anche all'ATP. Per una volta tanto hai un evento che va avanti per 5 anni e dal giorno 1 devi cercare di capire come migliorare il giorno 2. Si può solo imparare, si può solo migliorare, si può solo alzare l'asticella, non di anno in anno, ma di giorno in giorno. L'importante è avere la volontà di poter migliorare e di ascoltare gli altri. Questa è la cosa importante di tutti, fare squadra tutti quanti insieme per migliorare sempre di più.